ragazzi benvenuti bei tovarismi canale io sono macrus e siamo sempre qui su fifa 23 carri dannellatore arma allora sempre con la stessa tecnica forse siamo riusciti a becchiare altri due calciatori ho visto che in pratica il belgio va forte perché dario martins comunque abbiamo trovato c'è stato uno abbastanza anche forte non è cresciuto tanto però era già partito già cresciuto poi ho beccato questi alla sinistra girls e verstraite che secondo me non sembrano male lì per lì beh questo lo togliamo tanto se ci dice bene perché ovviamente non so speriamo che non ci sa non ci sta lei la donna buisson ma questa è un astro è un astrologa questa si accettiamo turno e tanto quello devi venire a fare con sa quattro anni ignoriamo la clausola madonna santa niente nero ventimila vorremmo inserire un bonus che vuoi e figlio mio questo 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 è per i due la vendetta o a vent'anni già ventimila che che sei contro offerta non è che la real madrid c'è ma vostro budget di ma chi 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 andava un po e questa non c'è niente da fare guarda però mi intriga e c'è il fatto di pescare la faccia una cosa facciamo 19 ok e poi togliamo ma almeno limitarsi il boss il boss il bonus ma che c'è niente dai e che chi ha porca miseria ma chi è voglio vedere chi è questo cioè sarà una potenza per forza ha sicuramente con quello che abbiamo speso ha sicuramente ma voglio dire veramente ok vabbè partiamo da un 79 questo è forte voglio andare un attimo a potenziale se non ce lo scordiamo ti presenti teniamo presente che abbiamo abbiamo sia la se a questo punto quello ferrari se ne può andare a fare in cuore praticamente sposcia abbiamo un sacco e quindi secondo me prestiti anche ferrari e a questo punto ma andiamo pure sposito in prestito e sì quindi lui piano di crescita in teoria questi possono diventare anche la destra perché noi a destra non è che siamo molto coperti due settimane ci mette questa non sarebbe per niente male perché ovviamente noi come alla c'abbiamo martin e poi qualcuno è 77 c'ha vent'anni c'ha margine di crescita no vabbè dai lascia lasciamolo così dai facciamolo crescere meno possibile passaggio è scarso passaggio quindi facciamo così ok ma mi vado a prendere c'è vediamo di piaccia pure a quell'altro eh allora il nome mi intriga tantissimo eh qua se quello ha piato 20 questo quanto gli dobbiamo dare allora facciamo sempre di un over e per quello che vogliamo fare magnifico quattro anni pure questo ah già voi siete fratello ma che tenete lo stesso manager tenete oh porca miseria schifosa ah meno male questo è più scarso allora limiamo sempre perché avvertivamente vediamo se a 13 vediamo se ci lima un po' col bonus 16 all'inizio proprio porca miseria e niente facciamo 14 dai e vediamo un po' e dai c'è rotto le palle e mamma mia che contratti questo non scende di niente cioè almeno limiti limitati un po' porca miseria non riesco a parlare oggi allora faccio 15 vabbè e basta davvero vediamo un po' vabbò si è ridotto il budget il bonus dai mi sono rotto c'è tutto mi scoccio io più la velocità di capire chi abbiamo avuto mica 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 girls vediamo un po' dai sempre a sicuramente per quello che abbiamo abbracciato 76 vabbè dai questo è come la cuna praticamente quindi in teoria ci va bene lo stesso lo andiamo anche a potenziale quindi in teoria adesso abbiamo certo c'era un sacco di attaccanti che si è ancora non so partiti e dai quindi abbiamo no perché tanto quelli stanno andando sicuramente zapata pure sembra crescere quindi anche girls non sembra ottima promessa addirittura potremmo anche mandarlo in prestito che dite ottima promessa e mostra un ottimo potenziale qual è la differenza tra cedibile in prestito esposito mostra un ottimo potenziale secondo me più mettere lui in prestito eventualmente secondo me vabbè facciamo il tema di crescita o magari vedere se a destra gioca meglio che dite due settimane due settimane diventa nella destra questo ma sì dai lo faccio giocare lo trasformo un ala lo faccio diventare nella destra vediamo che succede andiamo avanti perché non penso che faremo altro mercato perché non ci arriva qualche offerta mega galattica ma non credo questo è girls che è viondino ma come il cannavara non viene a me ah ecco stiamo sempre a tre sempre vieni siamo scarzone visto che ho detto fai schifo vabbè sì sì che ti pulisci madonna che sguissere che c'ha vabbè sì si dibe in prestito l'avevamo già accettato ci avevamo capito martin sa bene lì dove sta andiamo un po' avanti vediamo un pochettino sì in prestito perfetto anche accettato esposito siamo d'accordo siamo sempre d'accordo vabbè questi sono ragazzi relativamente tra l'altro c'è il sorteggio perca miseria chi abbiamo becchiato nel sorteggio no ma aspetta no no voglio vedere un attimo il sorteggio notizie parma bianchi di sorteggio eccolo qua praticamente vabbè il parma abbiamo beccato il parma siamo noi dove stiamo girone ah ecco la GRG Real Val Loider Efri Nantes e Lask ma secondo me è fattibile non lo so c'è sempre da vedere perché voi magari vedete dopo l'ultima figuraccia che abbiamo fatto comunque ci abbiamo il Venezia andiamo a riprenderci un pochettino però noi qualche esperimento lo dobbiamo comunque sempre fare perché altrimenti poi non riusciamo a capire come giochiamo allora innanzitutto io darei un po' di possibilità anche a Gaetano perché se no Gaetano non cresce più cioè quello già non cresce voi vabbè avete capito quindi lo farei giocare poi magari Esposito lo toghiamo volevo far provare giocare a sto per sto ragazzo fresco che abbiamo fresco giovane che abbiamo comprato a quello lo devo togliere perché obiettivamente non è che lo facciamo tanto giocare e niente giochiamo così dai non voglio tanto terzino sinistro chi ci abbiamo perché questo già sta un pochettino stanco già i terzino ah ci abbiamo da Silva da Silva da silva da silva da silva ma non ci avevo ah no perché dai l'abbiamo venduto quindi possiamo mettere anche da Silva che tra l'altro è un diciottenne abbiamo una squadra giovanissima giochiamo così troppo alcuni sono cresciuti e anche tanto altri invece sono occhio 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 perché tutti quanti su questo sì però non è non mi piace sta cosa però è arbitro questa istruzione però anche ora oh Verstraten oh abito due volte ma oh grande grande opportunismo opportunismo di Verstraten vabbè per poco però meno male che almeno questa la porta la vede quindi da lì è stato poi facile il segnale Gaeta Gaeta ok grande intervento di Del Prato qua stiamo andando a mille all'ora eh oh oh ma all'altra madonnina salta paghetta giochiamo con un terzino che eccolo qua uh la silva la silva aia è tu è tu è tu io andrei subito giù perché con un dai e vai possiamo fare grandi cose è buona è buona devo segnare vai Saxo vai Saxo ma vaffa fuori buttamelo fuori a questo eh che mamma mia 30 minuti gando di pera uh ma che chiazza bianchi ma io da là mi aspetto una sforbiciata potente da là ma no così oh non mi fate via nel gol così che mi incazzo come una bestia porca misera bravo Rossi è buona è buona madonna che tiro madonna che tiro ma vaffa ma dai ma dai ma dai la muovio la proprio dai ma porca miseria porca guarda oh alla fine non c'è niente da fare il nostro problema sono i terzini cioè abbiamo i terzini molli proprio guardali guardali vabbè che peccato cioè del prato proprio dall'altra par perdiamo una grandissima chance cioè di farci però vabbè fa niente dai colpa nostra perché secondo me dovevamo segnare un altro gol dovevamo fare non l'abbiamo fatta quindi abbiamo sbagliato vabbè pazienza queste allora abbiamo fette nazionale portogallo no non ci interessa e poi c'è giocatori impegnati fette per prestito di franco franco sì sì lo possiamo mandare in prestito ok e poi accordo per il prestito di bravo accettiamo un anno passo per un anno tempi brevi cosa vuol dire scusano tempi brevi che è successo non sono fatto vedere che causa mancata risposta ritiriamo stavo un po impressionando non avevo letto bene pensavo che tipo dovrebbe avere un buon contratto ma chi è parma tonia che cazzo non lo capita sta cosa come si sono confusi offerta per questo di franco settimane rossi madonna santa un mese sta fuori questo si è fatto male ma porca di quella misera porca guarda qui e quando gioca questo rossi proprio tu si è fatto male vabbè fa niente che si deve fare bamba insomma se cresce più questo fa niente ce la faremo a ritornare in forma vediamo di fare qualcosa perché siamo partiti male secondo ci abbiamo il torino giochiamo qualcosa più forte che questa qua pensate voi e niente e vabbò vecchi compagni sono 50 anni che non ci giochiamo dobbiamo vincere e basta però è che isax non si è mangiato un gol quanto una casa è buona è buona raccoglie il suggerimento del compagno ha sfoderato una parata super qui sarà rimessa guarda che assist che ha fatto chi è questo reggendi buffon secondo me abbiamo sbagliato partire quest'anno guarda lì è vero che il primo paolo le prendono tutte quante però vabbè ma quale fallo dai io mi metto perché questa come tira e se in gara la porta segna pure vabbè vabbè ragazzi c'è così c'è non ci guarda qua guarda qua ma questo è culo proprio dai ma perché hai fatto sto tiro a voi stiamo mangiando un sacco di gol facevamo noi ai 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 guarda come è incredibile io non so ma abbiamo avuto un trago voglio c'è qualcosa che non quadra perché ne possibile non abbiamo mai giocatori cioè più o meno i giocatori sono gli stessi non riusciamo a fare niente cioè veramente dovrebbero essere pure migliorati e dai e dai vabbò no 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 raga no non è possibile cioè non si riesce a fare più niente veramente ehi 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 manca un passaggio niente non entra niente non entra niente cioè tenete presente che noi non stavamo neanche segnando non stavamo neanche segnando andiamo andiamo e vai oh vai dai vediamo se ce la facciamo ma meno un pareggio meno un pareggio vediamo se ce la facciamo ma andiamo mamma mia mamma mia mamma mia 3 a 0 3 a 3 per un punto di un punto un punto raga un punto un punto soltanto cioè noi comunque riusciamo a segnare però tragolla completamente però potremmo anche prenderlo il gol ecco vabbè praticamente una fatica inutile una fatica inutile una fatica inutile fatica inutile recuperiamo lo facevamo prima sto 4 a 3 4 a 4 finisce 4 a 4 è un peccato perché è un pareggio che non serve a niente dimostriamo sempre di avere una fortissima carenza in difesa fondamentalmente però io pensavo che saremmo riusciti a ritirare l'offerta per esposito accordo per il pesito per esposito vabbè sì due anni ha detto vabbè ma va attento per fare i tagliati speravo almeno che riuscite a piazzarci un po' ma invece niente vabbè ragazzi ce la faccio ce la faremo cosa è è Grazie a tutti.